cari amici di mille un avventura torniamo sul nostro amatissimo commodore 64 perché è uscita la nuova versione di ozmu che cos'è ozmu è un programma che consente di convertire avventure testuali in formato z3 per poterle giocare sul commodore 64 perciò mettiamo assieme come ci è capitato spesso di fare in passato sia la passione per il commodore 64 che quella per le avventure testuali ozmu è disponibile su github mi pare di averne già parlato in qualche video passato e consente di trasformare appunto avventure scritte per la z machine che è il formato che è stato inventato dalla infocom la casa di produzione di giochi che è responsabile di tutta per esempio di tutta la serie che riguarda zork e questo convertitore da formato z3 al formato adatto per il commodore 64 ha proprio avuto un aggiornamento pochi giorni fa vedete 9 agosto del 22 la nostra diciamo questa notizia la nostra nostro scoop ci ricorda però che purtroppo non si può creare una avventura testuale con inform 7 e sperare di poterla poi vedere sul commodore 64 perché appunto inform 7 è un programma per creare avventure testuale piuttosto pesante anche con inform 6 ci sarebbero dei problemi però è stato inventato puni inform che è appunto una versione un po più leggera di inform e quindi volendo si potrebbe seguire quella strada lì altri metodi per creare avventure testuali invece sono per esempio utilizzare direttamente dagli z3 creati col linguaggio zil è il linguaggio che è stato usato per creare appunto la serie di zork ecco adesso proveremo proprio questa cosa mi pare di averlo già mostrato in un video invece di scaricarsi da github il programma e fare le varie conversioni si può sfruttare direttamente osmo online che appunto è una versione online dei programmi e è sufficiente dopo aver creato l'avventura testuale quindi ci vuole a disposizione un file z1 z2 o fino a z8 noi useremo mi pare un file z3 per fare questa prova si carica il file e poi si costruisce il gioco dopodiché si andrà a caricare il gioco per esempio su un emulatore del commodore 64 noi faremo questa prova con l'episodio 2 di zork zork 2 il mago di frobots andiamo a scegliere il file anzi facciamo prima lo trasciniamo direttamente qui sopra no non sono riuscito ecco adesso ce l'ho fatta abbiamo scelto il file e ora lo inviamo al sito con il tasto upload ecco vedete quello che è successo il sito che appunto ha già tutti i programmi predisposti per fare questa conversione che poi vi lascerò qui sotto in descrizione il link per eventualmente provare a vostra volta ecco qui zork 2 in formato z3 e ora non ci resta vedete qui sotto build game possiamo scegliere la piattaforma dal commodore 64 fino ad altri ad altre versioni del nostro amatissimo c64 si può scegliere la modalità sia disco singolo disco doppio dato che il nostro file mi pare sia 114 kb dovrebbe bastare un disco singolo che dovrebbe poter contenere 170 kb però ci saranno anche delle compressioni quindi non è detto che serva tutto il disco poi qui ci sotto ci chiede altre cose a noi non interessano per il momento andiamo a creare proprio una cosa di base e quindi clicchiamo su build potremmo impostare tante modifiche cliccando su build dopo qualche istante è stato con successo costruito il gioco ed eccolo qui lo possiamo scaricare quindi proviamo a cliccare ecco qui che è stato scaricato e vedete avevo scaricato anche zork 2 perché avevo sbagliato a depositare il file questo non ci interessa invece c'è questo file di 64 cioè il formato utile per essere importato in un emulatore di commodore 64 eccolo qui il nostro emulatore già pronto andiamo a collegare l'emulatore all'immagine del disco eccola qui che l'abbiamo subito trovata almeno credo andiamo col solito load dollaro virgola otto a vedere la directory del disco ecco vedete contiene un solo file che si chiama story e allora andiamo a caricare questo file e vediamo se davvero avremo davanti zork 2 e vediamo la velocità con cui il c64 riesce a giocarlo ci vuole un po' di tempo quindi aspettiamo con fiducia ed ecco che il caricamento è terminato andiamo con l'istruzione list a vedere il programma e il programma chiaramente si riduce a un'istruzione sys system che va a richiamare il programma in linguaggio macchina che esegue la nostra avventura quindi andiamo a scrivere run veloce caricamento dal disco speriamo almeno che sia veloce ed ecco qui osmu 11.2 tutto bianco vedete zork 2 il mago di frobots un'opera di narrativa interattiva della infocom dato che spara un po' troppo premendo il tasto funzione 1 possiamo metterlo in un più comodo modalità notturna scura che sembra un po' a fosfori verdi vista così ma è lo schermo proposto dal c64 ecco vedete che purtroppo essendo questa versione in italiano osmu non comprende le forse il c64 non comprende le parole accentate infatti vedete la descrizione della prima stanza in cui ci si trova in zork 2 all'interno del tumulo ti trovi in un antico tumulo nascosto nel profondo di un'oscura foresta eccetera eccetera c'è scritto all'altra estremità vedete che manca la A accentata vedi un debore bagliore per terra c'è una spada di fattura elfica anche qui manca la E accentata allora proviamo vediamo la velocità avete già visto che la descrizione della stanza ha messo ci ha impiegato un po' di tempo per essere scritta ora prendi prendi la spada andiamo invio ecco vedete che ci mette un certo tempo però poi scrive presa e se andiamo a vedere l'inventario dopo un certo tempo ci dice stai trasportando una spada elfica c'è anche una lanterna d'ottone prendi la lanterna la classica lanterna di Zork e vedete che ce l'abbiamo abbiamo sia la lanterna che la spada elfica e poi potremo andare a sud e continuare la nostra avventura godendocela sul nostro Commodore 64 siamo arrivati al cunicolo stretto e da lì in poi l'avventura continua ecco ovviamente se noi giocassimo l'avventura su un normale aiuto su un normale eccolo qui gargoyle chiaramente le velocità sarebbero tutte molto più rapide perché chiaramente il computer su cui viene eseguito è tutta un'altra cosa quindi prendi la spada non so se riuscite a vedere un po' piccolo e vedete è tutto immediato e potremmo anche prendere anzi prendi tutto vediamo se lo capisce l'ha capito e vedete che stiamo trasportando una lanterna e una spada elfica e potremmo andare a sud e chiaramente gargoyle ci propone tutto in modo molto più veloce ecco questo ovviamente senza il fascino di giocare sul C64 chissà che succede se scriviamo salva ecco ci chiede dove vogliamo salvare gli diciamo device 8 e dice di inserire il disco c'è già ci chiede lo slot dove salvare facciamo slot 0 commento primo salvataggio sta salvando non so se riusciamo temo che il tempo di salvataggio sia molto lungo bene ha finito chiede di inserire il disco della storia nel drive 8 ma ci dovrebbe già essere perché non ho cambiato il disco e dice ok vediamo dove siamo siamo ancora nel cunicolo stretto vediamo se riusciamo a uscire con quit forse sì abbiamo ovviamente punteggio 0 desideriamo uscire dal gioco sì per confermare non ha capito forse perché ci vuole la S maiuscola mi sa che abbiamo trovato un problemino niente non riusciamo a uscire vabbè comunque usciamo in questo modo andiamo a riprendere se lo troviamo il C64 e vediamo se davvero è stato salvato eccolo qui ingrandiamo un po' e andiamo di nuovo a attaccare l'immagine del disco ah c'era si vedeva già comunque facciamolo col metodo tradizionale ecco andiamo a vedere il direttorio come lo chiamavano all'epoca e vedete che c'è la storia il programma story e 56 blocchi sono stati occupati dal primo salvataggio e ne rimangono solo 55 quindi un altro salvataggio non sarebbe possibile per questo motivo ci chiedeva di cambiare disco se volessimo salvare più salvataggi bene questo come avete visto è Osmoo online se avete delle avventure che vi piacerebbe giocare sul nostro amatissimo C64 se sono abbastanza piccole non create con inform set che le crea mastodontiche e richiede molta più memoria potreste provare a fare questa semplicissima conversione qui sotto in descrizione trovate il link alla versione online di questo strumento bene siamo tornati sul C64 dopo tanto tempo e a me quindi non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in uno dei prossimi video in una prossima diretta ciao a tutti Grazie a tutti.